Prendo spunto per questo video dal libro Essential Tennis and Imagery di Archie Smith per una cosa curiosa, una cosa carina a cui non avevo mai pensato, che ho provato a fare e che voglio sottoporre alla vostra attenzione. Quando la palla rimbalza, cadendo perpendicolarmente al suolo, descrive un cerchio, questo. Quindi la palla rimbalza e descrive un cerchio. Quando però noi guardiamo il tennis in televisione, la palla non descrive un cerchio, ma descrive un'ellisse. Questo perché? Perché la palla non cade perpendicolarmente sul terreno, ma arriva con un certo angolo. Quindi la deformazione della palla all'impatto col terreno produrrà un'impronta elittica. Questa qua. Guardiamo, anzi, prima di guardare Nadal, guardate la racchetta. Mettiamo il caso che la racchetta arrivi sulla palla esattamente in modo perpendicolare alla direzione della palla. Quindi in questo modo la palla viene colpita a piatta e la palla colpita al centro produrrà un'impronta rotonda. Ma se la racchetta entra dal basso, come quando noi giochiamo un topspin, quando la racchetta incontra la palla, abbiamo visto che la palla con la deformazione produce un'ellisse. Allora, se io immagino di colpire la palla al centro, la punta più stretta dell'ellisse sarà al centro, ma il grosso dell'impatto sarà sotto il centro della racchetta. Quindi se io voglio giocare una palla in topspin, l'autore ci dice di colpire leggermente sopra al centro, in modo che la parte piccola dell'ellisse sarà sopra al centro della racchetta, ma la parte grossa della palla sarà esattamente al centro della racchetta. Vediamo anche Nadal in questo contesto. Ecco, è leggermente, leggermente sopra, leggermente sopra. Adesso io ho provato a farlo. Non lo so se questa teoria è giusta o no, però una cosa è certa, che fa mettere molta più attenzione a come la racchetta tocca la palla e nel momento preciso in cui tocca la palla. Quindi io metto molta più concentrazione durante l'impatto facendo così. E come dice Louis Caillère, il tecnico britannico, il colpo inizia quando si colpisce la palla. Provate a palleggiare con questo consiglio. Provate a pensare, il colpo inizia quando colpisco la palla e l'andamento, la dinamica del colpo assumerà tutt'altro aspetto.